Domenica 9 dicembre alle ore 20.45 presso il Pallapuglisi di Battipaglia in località Belvedere si terrà la settima edizione del Galà Lirico di Beneficenza di Battipaglia. L'evento a conferma dell'importanza che sta acquisendo anche nel panorama nazionale per il secondo anno consecutivo si avvale del patrocinio della RAI Responsabilità Sociale. Patrocinio anche del Comune di Battipaglia che lo ha inserito nel calendario degli eventi natalizi comunali dal titolo Serre d'Inverno 2018. Organizzato dal tenore battipagliese Francesco Napoletano il Gala prevede nella sua prima parte la rappresentazione di un'opera lirica in forma semiscenica attraverso i brani più importanti ed una spiegazione filo-conduttrice. A seguire una seconda parte lirico pop più popolare. L'opera scelta quest'anno è la Carmen di Bizet, una delle più affascinanti per gli amanti dell'opera.